Temptation Island Temptation Island, Sara tronista, le rivelazioni shock di Selvaggia Roma Temptation Island, Sara affifella tronista di uomini e donne, Selvaggia Roma senza freni sui social. È ormai noto a tutti che Sara affifella è la nuova tronista di uomini e donne. Lei l'abbiamo conosciuta quest'estate durante la sua partecipazione a Temptation Island con il fidanzato Nicola Panico. A fine trasmissione erano tornati a casa single, ma poi si sono rimessi insieme. Ad oggi, la loro love story è di nuovo volta al termine. . In ogni caso, non appena sono uscite le anticipazioni dell'ultima registrazione del trono classico, in molti si sono scagliati contro la ragazza. A quanto pare, lei e Panico sono stati insieme fino a pochissimi giorni fa, anche se la diretta interessa ha rivelato di non amarlo più proprio nel corso del suo video di presentazione. . Tra tutti coloro che si sono scagliati contro la affifella, c'è anche Selvaggia Roma, sua compagnia di avventura nel corso della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia. . . Selvaggia Roma contro Sara Affifella dopo Temptation Island. Selvaggia ha commentato la scelta di Sara di sedere sul trono di uomini e donne molto duramente e senza troppi giri di parole. . Un post simile, forse, i fan della trasmissione neanche se lo aspettavano. . D'altronde, le due sembravano aver stretto una bella amicizia all'interno del villaggio di Temptation Island. . . A quanto pare, per la Roma e non solo, di fronte alla proposta del trono, la affifella non ha potuto far altro che voltare le spalle a Nicola Panico. . Quando poi ti rendi conto che i peggio non erano gli altri, ma lei. Sara ma come è possibile, ci siamo sentite giorni fa. . . Sara e Nicola dopo Temptation Island, la verità di selvaggia Roma. . L'ex fidanzata di Francesco Chiofa lo spiega nel dettaglio il motivo per cui è rimasta senza parole di fronte alla seduta sul trono della affifella. . . Dicevi di essere felice con Nicola. Adesso sul trono? Ragazzi ma l'amore dove sta? Ah no scusa, è preferibile lasciare Nicola per l'amore del trono. Sono senza parole Kai. Insomma, il pensiero della Roma sembra essere abbastanza chiaro. . . Anche Panico ha commentato la scelta della sua ex fidanzata e ciò che ha dichiarato ci lascia un po' senza parole. . . .